Ciao a tutti amici, benvenuti alla Bianco Auto. Oggi vi presento una vettura usata di un nostro ex cliente, quindi una vettura già venduta da noi precedentemente. È un Audi A4 Avant, 2000 turbodiesel a 190 CV, cambio automatico, col pacchetto S-Line esterno. La vettura è sempre stata e andata dalla nostra officina, quindi anche i tagliandi del cambio automatico, la effettate tutti qua al chilometraggio consigliato dalla casa madre. La vettura è in ottime condizioni, a 155.000 km del 2015, è un Euro 6 ovviamente. Fari all'oxia non davanti, fare a LED posteriore, sensori di parcheggio avanti e dietro. La macchina è grigio scuro metallizzato, fa ancora tantissimi chilometri, una macchina del genere. Vi faccio vedere gli interni che è stata tenuta benissima questa macchina, guardate. Guardate, sedili elettrici, destra e sinistra, portellone d'apertura elettrica. Guardate, la macchina è perfetta, per chi vuole comprare una station wagon e non spendere tanto e tirare ancora avanti i 7-8 anni, questa è la macchina giusta. Guardate. E' ben tenuta. Tra l'altro su questa macchina qua diamo un anno di garanzia. La già andata, la diamo. Vedete che ancora la macchina è perfetta, clima automatico bizzona. La macchina è una macchina che non si spende molto, si viaggia, comodi. Cambio automatico. Pacchetto SLA in esterno. Vi faccio vedere due cose all'interno. 155.000 km, vettura già venduta da noi, navigatore, bluetooth, clima automatico bizzona, sentire riscaldati, volante multifunzione, cruise control attivo, Audi Lane Assist, la macchina che ha tutto di più. Se volete venirla a vedere e provare, venite qui da Bianco Auto a Motta di Costigliole d'Asta. Ciao a tutti amici, alla prossima.